Fabian Cancellara, torni sulle strade del Giro d'Italia, cosa provi? Ritornare a una tua seconda patria? Eh sì, sarà... no, è un momento speciale per avere la squadra al Giro e alla fine la continuazione del progetto del Pudor Pro Cycling. Questa è la base, il resto viene perché stiamo lavorando sulla base, la base fondamentale per crescere. Ma mi sembra che a tutti gli effetti il tuo progetto stia crescendo di anno in anno e si intravede già qualcosa di molto importante e molto ambizioso. Ambiziosi, alla fine se lavoriamo di base, uno e uno fa due, allora base, crescere, i risultati vengono. Però penso, chiaro, è un bel progetto, grande soddisfazione, tanta gente buona che aiuta per fare questo progetto perché alla fine senza la gente non si va da nessuna parte. Certo, tu sei un corridore vincente, cosa ti aspetti? Cosa ti desideri da questo Giro per sentirti soddisfatto? Per te e il tuo sponso, tu? Ma alla fine, continuazione del progetto, questa è già la vittoria che per me personalmente, perché alla fine i corridori corrono, loro hanno gli obiettivi, io sono qua dietro e voglio spingere per portare il progetto avanti e poi dargli il piatto per poi finire il mangiare. Grazie.